Mattia Foglio, oggi ad Expo Valsir avete parlato di sistemi di ventilazione meccanica con una pratica di parecchi studenti. Come si è svolta la mattinata? Allora la mattinata è iniziata appunto con una presentazione di questa nostra realtà imprenditoriale di Valsir e di tutto il gruppo Valsir. Successivamente abbiamo iniziato i lavori andando a parlare di un sistema innovativo che ci permette ovviamente di risparmiare dal punto di vista energetico per cui andare in direzione di edifici sempre più sostenibili con anche alcuni particolari, alcuni dettagli relativi al comfort e al benessere abitativo delle persone che vivono gli edifici, gli ambienti, le case. Questo sistema di ventilazione meccanica permette appunto un risparmio energetico durante il suo funzionamento e ci permette di avere una qualità dell'aria che respiriamo sempre di elevato comfort. Questo è il prodotto e oggi l'avete presentato a chi? Oggi l'abbiamo presentato a una platea di termotecnici, progettisti, architetti e ingegneri dalla provincia di Brescia. È stato un evento molto interessante, un evento che è andato a completare un percorso che Valsir ha tenuto in questo 2018 fatto di circa 85 interventi su tutto il territorio nazionale dove si è andati a lavorare per approfondire le tematiche relative all'innovazione degli impianti a tutto tondo nell'ambito dell'idraulica con tutti i professionisti delle varie regioni d'Italia. Dai sistemi di ventilazione meccanica ai sistemi pluviali, Ibsen, Taesi, di cosa si tratta? Allora, l'argomento è piuttosto importante visto anche i mutamenti climatici di questi ultimi anni. Quindi stiamo puntando molto su questo argomento per preparare le abitazioni e gli edifici a poter gestire queste che vengono chiamate oggi bombe d'acqua. Quindi abbiamo mostrato come le normative di riferimento ci indicano progettare correttamente degli impianti pluviali ma oltre a quello che è normalmente conosciuto, noto, stiamo introducendo sul mercato italiano i sistemi sifonici che è sempre un sistema di tipo pluviale ma che lavora con alte prestazioni e riesce a garantire un drenaggio delle acque dalle superfici coprenti molto più ottimizzato, molto più rapidamente rispetto a quello che farebbero pluviali normali. Legato a questo poi abbiamo introdotto anche il concetto di raccolta delle acque meteoriche e il loro riutilizzo. Quindi per andare a salvaguardare le riserve di acqua potabile e utilizzare dell'acqua pluviale al posto dell'acqua potabile dove non è richiesta. Semplicemente anche per irrigare i giardini, pulire le automobili oppure per andare a risciacquare WC. Per risciacquare un WC non è richiesto per forza dell'acqua potabile, basta utilizzare anche quella pluviale e quindi un vantaggio anche economico e ecosostenibile diciamo. Quindi con Valsir tecnologia al servizio dell'ecologia e del risparmio? Assolutamente sì. Valsir si pone ad essere un leader di mercato nel mondo della termoidraulica non solo per il prodotto fine se stesso, quindi non solo per introdurre tecnologie più evolute, ma tecnologie per ottimizzare e migliorare la vivibilità, risparmiare energia e quindi ridurre anche i consumi idrici di acqua potabile. Questo lo si vede anche nei nostri stabilimenti dove sono state introdotte tecnologie appunto per risparmiare energia come pannelli fotovoltaici, gli stessi sistemi di snevamento che abbiamo attorno agli stabilimenti che ci permettono di raffreddare l'acqua di produzione senza introdurre un consumo energetico eccessivo.